Non credo di avere moltissimo da dire, nel senso che abbiamo fatto una partita piena di errori che era anche attesa da parte mia ma da parte nostra alla fine di... è un ciclo che continuerà subito dal 3 gennaio, però dopo 8 partite in 16-17 giorni con 5 voli e la squadra veramente ai minimi sia delle energie che delle fisiche che delle risorse nervose e poi oltre alle assenze anche pesanti abbiamo perso Brux durante la partita e non ce la faceva con la schiena e lì è stata un po' anche una chiave pure in una partita con tanti errori dove abbiamo fatto proprio cose scelte, sbagliate, perse senza motivo perché insomma abbiamo perso due giorni fa 8 palloni in un campo come quello del Maccavi siamo riusciti a perdere i 14 qui insomma questo sicuramente poi pesa, non è un finale punto a punto però è chiaro che Avellino è stato bravo ad attaccare quasi sempre i 4 il 4 quando Brux non c'era e lì ha trovato gli spazi per il playmaker insomma situazioni che noi abbiamo un po' sofferto quindi poi in fondo anche con i falli di Fontecchio avevamo poche risorse difensive, abbiamo sbagliato troppo tra cui le scelte nel finale ma ripeto quando una partita è così e brutta quello che dobbiamo imparare a fare è sapendo con serenità che queste giornate capitano gioco forza di essere meno nervosi all'inizio di capire che ci può stare di perdere ma dobbiamo essere un pochettino più lucidi perché se non sperdiamo queste energie nervose poi alla fine c'è la possibilità di vincerla comunque e quindi questo è l'unico così rammarico insegnamento che posso chiedere ai miei giocatori perché stamani avevo detto proprio questo di non disperdere energie in nulla nel lasciare che Avellino facesse giustamente la gran partita ma noi di stare lì e di trovare magari un quizo nel finale l'abbiamo anche fatto ma abbiamo sbagliato troppo in finale invece che sotto di 6-8 dovevamo essere punto a punto e poi quando c'era comunque l'opportunità invece di andare fino in fondo ci siamo presi un tiro da tre punti una persa ma insomma la partita era già frutto di tanti errori prima prima di tutto sono molto contento di averlo visto stare in campo 29 minuti perché è un ragazzo che si merita l'ho visto lavorare per tanti mesi l'anno scorso ogni giorno per recuperare però questo ginocchio non andava mai per cui siamo gente di sport e vedere un giocatore di quel livello che torna a essere in campo dopo più di una stagione mi ha fatto piacere e credo che man mano che avrà il ritmo partita e se non avrà problemi sarà sempre meglio meglio e meglio perché il giocatore è sicuramente di livello un corpo come ce ne sono pochi anche in Eurolega e quindi nel momento in cui riprenderà il ritmo e una mobilità di piedi ancora superiore questo è un giocatore che sposta detto quello noi poi l'anno scorso abbiamo trovato un equilibrio abbiamo trovato un equilibrio nei centri e noi stiamo facendo una stagione sopra le aspettative e quindi stiamo bene così e non rimpiangiamo nessuno se non gli infortuni che ora cominciano a pesare molto perché ci troviamo qui e in campionato non cambia perché al di là del primo posto o meno ma tanto in campionato ti giochi tutto ai playoff dove devi vincere in trassert stiamo facendo bene e questo conta perché conta per avere tutte le opzioni disponibili per resistere quando giochi l'Eurolega a questi livelli però in Europa adesso adesso stiamo ci aspetta un periodo molto complesso molto complesso e niente cercheremo di trovare delle risorse ancora nonostante la squadra abbia dato tantissimo per arrivare fin qui essere prima in campionato aver vinto la Supercoppa avere dimostrato in Europa di giocarsela dappertutto con tutti e di essere con sette vittorie dopo che abbiamo fatto sette partite in casa in generale andata quindi se noi riuscissimo paradossalmente a finire col 50% quindi con 15 tenendo la media delle partite da casa e fuori sarebbe oltre gli obiettivi che ci eravamo posti con soprattutto pensiamo all'assenza di Nedovic poi parliamoci chiaramente cioè con Nedovic noi in Eurolega siamo fuori casa 4 vinte e una persa di cui persa con Nedovic l'ultima quando è uscito gli ultimi 6 minuti non ha potuto giocare il finale punto a punto e abbiamo comunque avuto il tiro per vincere che stava sputato dal ferro se no avremmo potuto vincere 5 partite con lui in tracerta in Eurolega quindi credo che quello dia la dimensione di quello che abbiamo perso con lui due mesi fuori e di quello che vorremmo diventare se lui ci sarà con un po' di continuità e la sfiga ci lascia un po' in pace proprio perché l'atteggiamento di questa squadra è onestamente sempre stato ottimo dal primo giorno posso dire che solitamente quando ma solo da esterno che ho saputo quando c'è una situazione per cui si dice se così ho capito bene che mi hanno detto chi vuole stare sta chi vuole andare va chi resta estremamente motivato e si compatta una squadra e oggi era la squadra che mi aspettavamo cioè giocatori che davano il mille per mille in campo con un legame con il pubblico con una compattezza anche ambientale che poi si stringe intorno alla squadra in un momento di difficoltà e questo molte volte è meglio che avere un giocatore in più che è un giocatore in più che è un giocatore in più che è un giocatore in più